Ciao amici del Club delle Ricette, scopriamo come preparare una golosissima crema chantilly al pistacchio. Iniziamo preparando la crema pasticcera al pistacchio, mettendo in un pentolino il latte, l'estratto di vaniglia e mettiamo sul gas. In un altro pentolino uniamo lo zucchero e i tuorli e montiamo con la frusta. Aggiungiamo poi la farina e la maizena e amalgamiamo per bene. Aggiungiamo il latte caldo a filo mescolando con la frusta. Mettiamo sul gas e facciamo addensare a fuoco dolce mescolando. Togliamo dal fuoco. Aggiungiamo la crema al pistacchio e mescoliamo per bene. Aggiungiamo il latte caldo. Aggiungiamo il latte caldo. Aggiungiamo il latte caldo. Iniziamo il latte caldo. copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare in frigorifero una volta pronta montiamo la panna fresca ben ferma uniamo la crema pasticcera al pistacchio mescolando per bene muzie a tutti ecco pronta la crema chantilly al pistacchio per tantissime altre ricette ricordati di scaricare gratis la nostra app grazie a tutti grazie a tutti